E' una posizione curiosa e rispettabile. Se un giorno ufficialmente Francesco mi invitasse a far quello, potrei partecipare a questa sorta di petizione dando il mio contributo, ma non pretendendo di andarmene via. Non ho questa aspirazione, non mi interessa. Io francamente adesso dico una cosa forse poco furba, ma io vorrei vivere in un paese dove chi governa è messo in condizione di governare, sia di sinistra o di destra, chiaramente non una destra che preoccupa e che dà la sensazione di sfociare in posizioni intollerabili per la democrazia. Parlo di una situazione voluta da un popolo che ha votato democraticamente. Quello che piacerebbe a me sarebbe riuscire a vivere in un paese dove c'è la possibilità di portare avanti una qualche linea di governo. Il giorno che questa cosa accadesse vorrei poter capire se questa mia velleità è una velleità ragionevole oppure no.